Salve a tutti, sono Gazzina.blu. Ora vi mostro un esperimento di conduzione del calore. Allora, vediamo cosa ci serve. Un cucchiaio di legno, un cucchiaio di plastica, un cucchiaio di metallo, burro, ciotola, acqua bollente, tre regoli bianchi, un cronometro. Ora vediamo cosa fare. Con un pezzettino di burro, fissiamo il regolo al manico di ogni cucchiaio e mettiamo i tre cucchiai nella ciotola. Versiamo dell'acqua bollente nella ciotola e con il cronometro del cellulare vediamo quanto tempo impiega ogni regolo per cadere. Vediamo il tempo della caduta. Il regolo attaccato al cucchiaio di metallo è caduto dopo 49 minuti. Il regolo attaccato al cucchiaio di plastica è caduto dopo 57 minuti. Il regolo attaccato al cucchiaio di legno è caduto dopo più di un'ora. Cosa abbiamo capito? Il metallo è l'ingliore conduttore di calore. Si è riscaldato prima e ha fatto cadere per prima il regolo attaccato al cucchiaio di metallo. Il legno invece contiene aria ed è uno scarso conduttore di calore. Infatti il regolo attaccato al legno è caduto per ultimo. Quindi possiamo dire che il calore dell'acqua si trasmette attraverso il manico di ogni cucchiaio facendo fondere il burro e cadere il regolo. Io però ho messo troppo burro e i regoli hanno impiegato più tempo per cadere. Alla prossima, Gartina Punto Blu